Buongiorno dottore, volevo presentarvi la nuova linea della VH per quanto riguarda le turbine contrangoli da studio, la Sinea Fusion. Sinea Fusion si compone di una turbina con una testina piccola, la TA97, una turbina standard con la testina standard, la TA98, con luce a LED oppure senza luce, per attacco VH o per attacco multiflex della cavo. Poi la Sinea Fusion si completa con una linea di contrangoli dove al top della gamma troviamo il VG99 LED LT che ha la caratteristica di moltiplicare per 5 la velocità del micromotore, una luce che sfrutta la lampadina del micromotore tramite un conduttore ottico, poi abbiamo il classico contrangolo blu 1 a 1 anche qui con luce e senza luce e poi abbiamo un piccolo riduttore di 1 a 2 per piccoli ritocchi. La linea Fusion si colloca tra la linea Sinea che è il top della gamma e la linea Allegra sia per il livello tecnologico che per il livello qualitativo degli strumenti. La turbina e il contrangolo ad anello rosso hanno i cuscinetti rivestiti in ceramica con due anni di garanzia.